Innanzitutto definiamo che cos'è il CAD. Il termine CAD non è altro che un acronimo che sta per Computer Aided Design, cioè progettazione assistita o aiutata dal computer. Ma quando nasce il CAD? I primi programmi CAD nascono nella seconda metà degli anni 50, per la precisione nel 1957 e giravano su macchine molto diverse dagli attuali PC. La prima versione di AutoCAD, il CAD che poi dominerà il mercato, nasce nel 1982, quando iniziano a diffondersi i personal computer e gira su MS-DOS, il vecchio sistema operativo della Microsoft. Solo negli anni 90, con la diffusione di Windows, assumerà l'aspetto attuale con una interfaccia utente di tipo grafico. Questa è l'interfaccia utente di AutoCAD nella versione 2.5, che risale al 1986, cioè più di 30 anni fa. Non c'era ancora Windows e questa versione del programma girava ancora su MS-DOS. Come vedi, da un punto di vista grafico è veramente essenziale. C'è un'area di disegno, una riga di comando e un menu laterale, molto diverso dagli attuali menu. Puoi però riconoscere alcune funzionalità e comandi che si sono mantenute. Questo è il primo AutoCAD che ho usato e su questo ho imparato le basi del CAD, che per molti aspetti sono ancora quelle. Questo invece è AutoCAD 2020, l'ultima versione. Come vedi, le differenze rispetto agli anni 80 sono enormi. Abbiamo una dotazione di menu che è molto più ampia. Abbiamo un'interfaccia grafica per icone che consente di arrivare a tutta una serie di comandi che permettono di fare una marea di cose. C'è anche la possibilità di switchare l'interfaccia a seconda delle necessità, scegliendo di stare in un ambiente più adatto al 2D, oppure al 3D, oppure alla modellazione. Si dice che AutoCAD sia arrivato oltre i 1500 comandi, senza considerare sottocomandi e variabili. È diventato un programma estremamente complesso e questa è la sua forza, ma in qualche modo è anche il suo problema. Perché imparare ad usare AutoCAD nel pieno delle sue possibilità è diventato un'impresa. La gran parte degli utenti infatti usano una quantità di comandi più limitata e per questo negli ultimi anni hanno successo alcuni CAD che sono molto più semplici, oltre che meno costosi ed in qualche caso anche gratuiti, come NanoCAD. Questo è NanoCAD nella sua versione free e si presenta così. Riprende l'interfaccia classica di AutoCAD, cioè quella precedente all'interfaccia Ribbon, che si compone delle seguenti parti. C'è un'area di disegno. La riga o linea di comando, da cui inserire i comandi da tastiera e da cui interagire rispetto a molti comandi del programma. La barra di stato, ancora più sotto, che riporta alcune impostazioni generali che si possono impostare ed anche le coordinate relative al cursore che si muove sull'area di disegno. Un menu testuale in alto, che attraverso i sottomenu attiva la gran parte dei comandi. Le barre degli strumenti, che sono posizionabili a piacere e che contengono i comandi sotto forma di icone. Poi, per ultima, ma non meno importante, la tavolozza delle proprietà, che ci dà preziosi informazioni sugli oggetti che disegniamo. L'interfaccia è personalizzabile in diversi modi. Il più immediato è quello che riguarda la gestione della barra degli strumenti, che puoi visualizzare e posizionare secondo le tue necessità. Puoi inserirle verticalmente, in orizzontale, oppure puoi, se l'uso è provvisorio, tenerle anche all'interno dell'area di disegno. Poi, dal menu strumenti personalizza interfaccia, andando nel riquadro, puoi scegliere tra diversi stili grafici. Te ne faccio vedere alcuni. Scegli quello che più ti piace. Io ritorno a quello precedente. Sullo stesso riquadro puoi impostare la dimensione dell'icone, adattandole alle caratteristiche del tuo schermo. Si possono rimpicciolire o ingrandire agendo qui. Poi puoi definire o ridefinire le scorciatoie da tastiera, che è un altro modo di inserire i comandi. Ci sono quelle predefinite, che se vuoi puoi anche modificare, ma c'è soprattutto la possibilità di crearne di nuove. Selezionando il comando, scrivendo su questa riga e assegnandole. Hai anche la possibilità, inoltre, di creare una toolbar personalizzata, cioè una tua barra degli strumenti. Basta andare su barra strumenti, cliccare su nuovo, dare un nome alla toolbar. Spostiamola fuori. Puoi caricare su questa tutti i comandi che vuoi. Una volta che l'hai composta, chiudi e te la trovi a disposizione e puoi posizionarla dove vuoi. Per ultima cosa, si può anche impostare un profilo personale, che salvi le caratteristiche dell'interfaccia che hai appena personalizzato. Come vedi, io ne ho uno, ma per definire il tuo profilo basta cliccare su aggiungi, dare un nome e renderlo corrente. È stato un tutorial piuttosto noioso, lo so, ed alcune cose che ho detto risulteranno più chiare durante l'uso del programma. La prossima volta cominciamo a disegnare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.